perché ha fatto un attraverso il muro e la parcheggio ho visto un cecchino burga sopra sotto tetto secondo è questa che diavolo è sta parte c'è il mio logo gigantesco lì e c'è una scarpiera spero che non siano finte quelle scarpe ma siano quelle mie cioè sembrano le mie e basta così? nient'altro? basta? non posso? nient'altro? ok seconda sfida quindi subito regà subito regà l'entrata dite voi l'entrata io ho notato la scarpiera che è una figata allucinante e il mio logo gigantesco credo che dovremmo settare il microfono per far sentire la tastiera vero? credo che sia molto bello è sopra bianco sopra bianco parte alta sono morti sono sotto attacco ammazzole dal muro è niente ha nel luco oh sotto eh da dove? si prendibile da sotto da sotto da sotto non preoccupare da sotto ed è così che prenderò la patente proprio in questo modo didattica a distanza patente D a D aspettatelo grazie mille Vodafone per farmi prendere la patente a distanza ma che parte di camera è questa? ma che parte di camera è questa qui raga? ok ci siamo ci siamo prossima sfida mannala mannala round 3 terza prova cioè non sei attivo non sei on point non sei sul pezzo no proprio si schianta cazzo si schianta sotto di noi si schianta guarda guarda nooo ma cosa fai coglione? vedi sei un troll di partite dici a noi che trolliamo le te lo vedo fa fuori da me sopra bianco arriva uno verso i nuovi piedi noccato quello nooo nooo cosa ho fatto cosa ho fatto poverino così gioverà oh mio dio nooo oh li metti sulla testa? ma no casa la casa qui davanti nella finestra rigamba che cazzo che cazzo di paura ora qua raga stanno salendo stanno salendo un sacchi piastre prendetevele che sbaglio a tre piastre e questo è quello che succede quando utilizzate il cento per cento del boss eh brother lottery kill scende troppo no anzi non ci ho messo niente nell'arma per ora mamma mamma che pezza congratulazioni grazie mille regia sempre sul pezzo prova superata gaming room unlocked avete dimostrato le vostre abilità avete superato ogni prova scusate ma è sbloccato il reward finale guarda quindi quello che abbiamo visto prima era la sedia ma che c'è su quel pc che gira in vortice ma che è un acquario ma questa quindi è la sedia ah quello che abbiamo visto prima era la scarpiera dall'entrata sì ma non riesco a capire dove sta sta roba ora è tempo di andare facciamo ufficio ci sto no da un cazzo qua è tutto tutto boh oh macchina fatti ma ce n'è uno è anche su playt da me pure sopra e la madonna o scende o vado dall'altra parte che vi ho fatto un raid in testa potere dal resto ah città città ragazzi due elmi di tb questo qua guarda curva città a me mi ha fatto col far con potere d'arresto solo headshot non regoil guarda di guarda di quel due elmi grazie mille regia lo farò subito io ho pure la regia in cuffia ragazzi che mi disturba mentre gioco dov'è il mio parco 2 fatto mamma mia i città ma me l'avete installato pure qui vodafone grazie è regolare è regolare è regolare è regolare